Grandi novità nel mondo della bella gente Estate, Ferragosto, presumibilmente molto presto ci saranno quello che molti si aspettano Ci saranno grandi occasioni di divertimento a Punta Ciolla Ma soprattutto una notizia c'è E ha suscitato curiosità, interesse e anche un po' di invidia presso gli amici della bella gente Ioante Badagliacchi, Lodovica Nierchi, Nello Pellillo, Lucrezia Rossi Orzelli Maria Claudia Malavolta, Ivon Pellutri, Aureangela Catone, Enzo D'Amico Isotropo Saro Rummos Carasciad, Patrizia Tirabocchi, Alberta Roncale, Massimiliano Tellamo Anna e Mauro Pacirdi Da sempre, come ben sappiate, splendida coppia Verde Pane Pizza, Clizia Zirzuolo Felpaiema che però è in giro con il suo romanzo Che sta avendo, beh, insomma L'editore in audio è molto soddisfatto delle vendite Verde Pane Pizza Forse l'ho già detto, di Verde Pane Pizza Lanzillo Lanzilli, Pancrazia Lanzarone di Spitto Nello Pellaggio, Antonella Polverari, Ortenzia Colacioppo Farra Farri, Leo Cacchiero, Shazam Aldam Bembo Con le sue figurazioni di danza Orsetta Cacardi, Leandra Clisteri Maria Luce Ips Marzia Rettaroli di Firnolo Lì nel suo maneggio Verde Casa Sollievo Il piccolo Pino Mocciaro Mi chiederete Il piccolo Pino Mocciaro ci sarà Ma vi dirò dopo del piccolo Pino Mocciaro Costanza Varicocelli Brunella Zuppa Anthony Harrison Yves Delalande Che giunge dalla sua Bretagna E ancora Mauretta Cardaci Mauro Camarda Maurilio Casetta Mattei Nicole Zegno Max Avellone Max Zucato e Max Zermons I tre Max Mariacci In questo caso Marinella Zumbo Antonio Sarcicola Luisa Brunoro Asia Gianna Cello Antonangelo Zapparrini Fiorenza Sciolti Nuto Valle Chantal Picorli Nevola Pino Carnaro Zoe Luppi Marinella Cianfrone Enzo Ripolla Santi di Fonca Mauro e Filippo Cintura Ballerini di Bump Quella danza Fianco Contro fianco Ci saranno Ci saranno anche loro sicuramente Non tutti Ma Marco e Filippo Ci saranno Statene certi Manuel Aureliani Sirio Rossano D'Angelo Molena Togliatti Cono Crozzi Cono Crozzi Laverne Rossi Casaro Livio Stuzzi Di Licano Enzo Salvemini Non Salvemini Salvemini Ci tiene All'accento Gipo Pinna Stella Almirante Mariuccia Spadacorta Salvo Corricola Di Torretta Rino Laudanello Diamante Brucato Marina Policar Ubaldo Nirpi Savoca Mariella Furcillo Miro Sbacchi Rebecca Rebecca Furciniti Ma Soltanto pochi Saranno Ed è qui la notizia Ad accompagnare Madonna La bravissima La regina Del pop Nella sua Venuta Adesso In Italia Per Ferragostana Chi ci sarà Con lei Il piccolo Pino Mocciaro Gli è stato detto Vieni Pino I fratelli Cintura Che con Madonna Danzeranno Ma soprattutto Madonna Giungerà A Pompei A bordo Dell'auto Di Jean De La Sucanière Mi direte Di cosa si tratta Beh Jean Ha con sé Un modello Di un'auto Che non esiste più Una Fassel Vega Alcuni di voi Non l'avranno mai sentita Pronunziare Invece La stessa auto Con la quale Albert Camus Era la guida Galimard Il suo editore Morì Nel 1960 Un'auto Che i collezionisti Darebbero Due occhi Della testa Per possederla Beh Jean De La Sucanière In questo momento Va immaginato Che viene giù Dalle Sagono Con la sua Fassel Vega Per raggiungere La località Di Pompei E A bordo Di questa Vettura Accompagnerà Madonna Agli scavi Per la grande Festa Li abbiamo Nominati tutti Gli amici Della bella gente Purtroppo Purtroppo Non ci potranno Essere Li vedremo poi Per l'appunto Alla discoteca Di puntaciolla Il Purtroppo Ci saranno Invece Con Madonna Jean De La Sucanière Il piccolo Pinomocciaro E dietro A seguire Ballando Il bump Per strada Seguendo L'auto Che andrà Ad andatura Soprattutto Arrivando Lì a Pompei All'ingresso Dell'area Degli scavi Dove si svolgerà La festa Marco E Filippo Cintura Jean De La Sucanière Un gigante Buon ferragosto Da tutti Adesso Lo sento Guarda Jean Sei pronto? Dove sei In questo momento? Dove? Non si sente bene? Ah no E' sull'autosole All'altezza Dello stabilimento Palmolive Sta per raggiungere Madonna A Pompei Buon ferragosto Fauna Sajan Bravissimo Già De La Sucanière La Sucana La Sucana